Ingegnere Scaramellini, quali sono le priorità dei professionisti sul territorio di Sondrio in provincia e che risposte si aspetta da questo congresso? I professionisti della provincia di Sondrio operano a 360 gradi nel campo dell'ingegneria. In particolare noi abbiamo un'attenzione che si applica soprattutto sul riassetto idrogeologico in quanto il nostro territorio montano ci ha chiesto di rispondere a problemi di riassetto idrogeologico molto spesso. Ci sono invece difficoltà che dovete affrontare e quali soluzioni pensate si possono trovare? Farei una sintesi e direi che la prima difficoltà è far capire alle istituzioni che bisogna fare manutenzione sul territorio e quindi non intervenire solo a seguito di disastri o frane o luvioni ma bisogna investire sulla manutenzione del territorio.